Per fortuna è passato un periodo un po' più difficile, un po' duro, ma piano piano sto rientrando in campo, tornando agli allenamenti normali e ritrovando le buone sensazioni. Ormai i cacciatori siamo abituati a giocare con dolore le partite, finché posso, finché mi dicono basta, non si può, mi fermo, ma se no c'è bisogno anche di farlo, lo sforzo soprattutto perché quando ci sono dei momenti difficili bisogna anche mandare un messaggio ai compagni, a tutto l'ambiente, che tutti siamo qua per dare il massimo, per fare il meglio e comunque io sono fatto così, finché posso camminare o correre provo in tutti i modi. Alla fine il percorso di un calciatore è così, ci sono i momenti dove uno bisogna stare più tranquillo e fermarci un po' per ripartire al 100%. Bene, bene, sicuro che il mister ha portato tanto entusiasmo, è una persona che conosce molto bene la città, il cloud, tutto quello che i tifosi viola vogliono dalla squadra, allora lui prova a trasmettere in tutti gli allenamenti, in tutti i piccoli momenti che abbiamo, trasmettere un po' in fretta tutto quello che lui vuole mettere in campo, sicuramente che i tempi sono stretti perché è una stagione in corso, è arrivato in un periodo dove c'era giusto la sosta per le nazionali. Sicuro che il gruppo ha sentito come una sconfitta il cambiare di allenatore perché quando succedono queste cose vuol dire che ci ha mancato, ci ha mancato dei risultati e delle prestazioni che dobbiamo farci responsabili e soprattutto essere consapevoli di quello che abbiamo fatto male, sicuramente che l'esforzo, l'impegno, la professionalità non è mancato mai, ma dopo nelle partite non siamo riusciti a trasmettere tutto questo che ci proviamo negli allenamenti e soprattutto la qualità che ha questo gruppo, ma sicuramente che ora come ti diceva prima con la voglia e con tutto questo entusiasmo che ci trasmette il mister proveremo a riuscire al meglio di questo periodo. È una partita dura, ad oggi nella Serie A non c'è una partita più semplice dell'altra. Il Benevento è una squadra che gioca bene, che ha fatto dei risultati, forse nell'ultimo tempo gli ha mancato questi risultati ma hanno dei giocatori di qualità, hanno una filosofia di gioco che portano già da un tempo. Allora noi ad oggi siamo concentrati pieno in quello che ci chiede il mister perché come si parlava prima, i tempi sono stretti, dobbiamo capire in fretta quello che lui vuole. Ci sono delle partite speciali e contro il Benevento portarà sempre a quel momento, a quel ricordo, a quella partita che, se ti dico la verità, a te mi chiedi cosa è successo nella partita, credo che è l'unica partita nella mia carriera che non mi ricordo nemmeno un palone, solo il gol di Vitor. Ormai sempre la testa ci porta lì quando si affronta il Benevento, soprattutto qua in casa, ma questi sentimenti una volta che inizia la partita devono essere messi a un lato e provare a dare il meglio per la squadra e a ruggire soprattutto a dare un momento di gioia ai nostri tifosi. Le emozioni arrivano sempre, per me ogni giorno, ogni partita, per tanti che abbiamo passato questi momenti ci porta a quello che abbiamo vissuto, ma è una spinta in più, una forza in più e come ti diceva, da quel momento che non c'è spiegazione si ha creato un legame fra la squadra, fra i tifosi, che è difficile da spiegare. Allora ci sono sicuramente che è sempre nella nostra testa, come ti diceva, uno vedi la partita con il Benevento a casa, lo primo che pensa è a quel momento, a quella partita, ma come diceva prima sicuramente è una spinta in più, è un motivo da cui lottare e soprattutto, come si ha parlato tante volte, per noi continua ad essere così, di portare avanti il suo ricordo e soprattutto per me ogni partita con quella faccia al braccio. Ciao a tutti, mando un saluto a tutti i tifosi viola e mi aspetto a rivedervi allo stadio presto, un abbraccio.